Campionato di Serie D, Girone E, sedicesima giornata, stadio Stefano Lotti, Poggi Bonzi contro Tau Calcio Alto Pascio. Il Poggi Bonzi deve cancellare due stop consecutive e smaltire soprattutto le tossine del K.O. dell'Armando Picchi contro il Livorno. Di fronte i giallorossi hanno forse la squadra più in forma del campionato, il Tau Alto Pascio, imbattuto da ben otto giornate dal 16 ottobre. E poi un lunga serie utile, fatta anche di un pareggio a Livorno per 2-2 e da un colpo esterno ad Arezzo per 1-2. Nelle Poggi Bonzi mister Stefano Calderini deve fare i conti con numerose diffide, vanno quindi in panchina Mazzogli e Tognetti, giocano Chiti e Morosi, torna a titolare anche Bellini. Nel Tau occhio all'attaccante Diop, fuori dai titolari Masini e Giustarini, due bocche da fuoco della formazione di Cristiani. Si tratta dell'ultima casalinga del 2022 per il Poggi Bonzi, Rocchetti perde un pallone sanguinoso in uscita, intercetta Borgia su Muscas, gioca poi dentro per Diop, Diop sinistro strozzato e il Tau si divora clamorosamente il gol del vantaggio. Rimessa con le mani, lunga gittata di Morosi, Bellini fa sportelate con Cartano, passa a Bellini che riesce a trasmettere a Riccobono e ha cerchiato, danza sul pallone. Il tocco fuori per Regoli, suggerimento morbido, sbuca Chiti di testa, pallone sul fondo, non è il piatto forte della casa all'incornata per Chiti. Viene incontro Riccobono, scucchiaia per Bellini che si infila fra Meucci e Vanucci, sguscia via Bellini, la rasoiata però termina sul fondo alla sinistra del portiere di Biagio. Capovolge l'azione del Poggibonzi, Riccobono brucia Ancilotti, parte in percussione, accompagna sulla destra Regoli che viene coinvolto, Regoli punta Cartano, poi sferra il destro, il pallone si infila in rete. Al minuto 23 la formazione di Stefano Calderini sblocca la partita con il nono gol in campionato di Vieri Regoli. Altra soluzione d'autore dal limite dell'area, Regoli fa centro incenerendo il portiere del Tau Alto Pascio di Biagio. Ospiti che cercano adesso di imbastire una reazione, calcio di punizione, se ne incarica Ancilotti, pallone morbido, la torsione di Cartano, intervento plastico di Pacini che si allunga la sua sinistra e allontana lateralmente il pallone. Riceve Muscas, combina con Riccobono che tenta lo slalom, viene agganciato da Ancilotti che frana su di lui, l'arbitro non ha dubbi, calcio di rigore per il Poggibonzi. Dall'11 metri, rincorsa di Gianni Riccobono, sinistro e intuisce il portiere di Biagio che risponde alla grande al calcio di rigore di Riccobono che dunque fallisce l'opportunità per il raddoppio giallorosso. Si resta sull'1-0 per il Poggibonzi. Eravamo al minuto 31, passiamo al 35esimo con Regoli che telecomanda il pallone verso Riccobono, buca Vannucci. Adora Riccobono può andare in cost-to-cost break dell'attaccante del Poggibonzi. Gioco di gambe, cerca spazio per il sinistro, prova il mancino, respinge il portiere, Bellini sulla ribattuta al pallone lì. Di Biagio commette un'ingenuità clamorosa travolgendo Bellini, calcio di rigore per il Poggibonzi, ancora Riccobono. Altra chance, questa volta è chirurgico il calciatore giallorosso che arriva a quota 9 centri in campionato. Glaciale, Gianni Riccobono non ha cambiato angolino, ma stavolta non si fa ipnotizzare dal portiere di Biagio. 2-0 Poggibonzi al 35esimo. Poggibonzi che va al riposo forte del doppio vantaggio, secondo tempo, angolo di Antoni. Si avvita Meucci, pallone simile al palo alla sinistra del portiere Pacini. Minuto 9, spinge Borgia, azione poi confusa del tau al topascio, ma Gurini riesce a mandare dentro. De Santis si allaccia con Diop e l'arbitro Olmi Zipilli concede il terzo calcio di rigore di giornata, questa volta per la formazione ospite. Lo stesso Diop ci prova per la trasformazione e trova uno strepitoso Pacini che con reattività riesce a intuire il calcio di rigore, neutralizzarlo. Si rimane quindi con il risultato invariato 2-0, calcio d'angolo di Camilli, parte la parabola, prende l'ascensore Bellini e Carcani si immola evitando un gol già fatto, salva sulla linea Carcani. Alla caccia del pallone Vannucci che dialoga lateralmente con il neoentrato Masini, ex della gara, ubriaca con una finta Amorosi. Parte il cross, Chiti ci mette la testa, poi Diop si coordina. Non riesce però ad impattare con convinzione il pallone, la sfera termina a fondo campo. Il Tau Alto Passo predilige le palle inattive per repungere, calcio d'angolo di Meucci, l'invito per Cartano che decolla. Pallone che sorvola la traversa, ma Pacini era comunque in controllo. Con le mani Morosi si propone Riccobono, giocata Circenze di Riccobono che va via Vannucci e Innocenti, subentra Chiti, il suggerimento salta Regoli che la schiaccia. Pallone in rete, 3-0 Poggi Bonzi al 31esimo della ripresa, Regoli sale in doppia cifra, 10 gol in campionato. Tris del Poggi Bonzi sul Tau, calcio Alto Passo, Regoli sovrasta Borgia e fa centro. Con il terzo tempo di testa, partita chiusa. Tramortito il Tau Alto Passo, ci prova ancora su pallone inattiva con Meucci, la frustata di Diop, il palo, il palone torna in campo. Poi il diagonale di Cartano che dilapida, un'occasione incredibile per accorciare le distanze. Giornata no per il Tau Alto Passo, calcio d'angolo di Meucci, Masini pizzica e ben appostato Diop che da due passi incredibilmente fallisce il colpo di testa vincente. Termina 3-0 per il Poggi Bonzi che cala il Tris contro il Tau, calcio Alto Passo sotto la stella dei suoi due attaccanti, Regoli e Riccobono. Arrivati rispettivamente a quota 10 e 9 centri in campionato. Dopo due sconfitte consecutive il Poggi Bonzi si rialza, interrompe la serie utile del Tau e si proietta alla sfida di mercoledì ad Arezzo in trasferta che sarà l'ultimo impegno del 2022. Dallo Stato Stefano Lotti nell'anticipo del sabato il Poggi Bonzi batte Tau Calcio Alto Passo per 3-0.